però è bello confrontarsi, non attaccarsi, questo è fondamentale, è la base di tutto secondo me, soprattutto in famiglia Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui siamo tornati, benvenuti nella nostra nuova puntata di Nutrimente Corpo TV con DNA in questo spazio si parla di alimentazione e benessere a 360 gradi e anche oggi questa è la seconda puntata seconda sì, seconda esatto, cercheremo di parlare di un argomento molto molto diciamo comune tra le persone che cominciano a cambiare alimentazione molti di voi troveranno molte cose interessanti in questa puntata esatto, sì sì, allora innanzitutto vi dico prima di cominciare che queste puntate andranno in onda sui nostri canali soprattutto qui su Facebook dove ci state guardando o anche su YouTube se decideremo di pubblicarla su YouTube esatto, o su Instagram perché anche lì abbiamo ovunque insomma ragazzi, ovunque ci seguiate potete trovare queste puntate queste puntate queste puntate andranno in onda due volte al mese ok quindi sempre alla domenica alle nove di sera così almeno vi segnate la data e non ve le perdete ottimo ad ogni modo ragazzi oggi si parla di un argomento che secondo noi è la cosa che fa diciamo demotivare di più le persone che cominciano una dieta ma a me comunque non piace il nome dieta perché è un po' troppo restrittivo stile alimentare stile alimentare, comunque cambiare alimentazione, cambiare stile di vita e secondo me questo è uno dei problemi per i quali le persone mollano ed è nessuno mi sostiene, nessuno mi appoggia esattamente non ho l'entusiasmo di chi mi sta vicino che è molto importante, adesso poi scopriremo anche perché è importantissimo, è importantissimo infatti noi dal punto di vista della nostra esperienza possiamo anche raccontarvi magari come l'abbiamo vissuto noi per fortuna siamo persone abbastanza aperte di mentalità entrambe quindi nessuno quando tu mi hai fatto conoscere questo stile alimentare sì 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 esatto io appunto ero ma assolutamente devo dirlo Diana è sempre stata una molto aperta, molto curiosa molto sempre molto aperta a tutto ciò che le veniva proposto poi ovviamente esatto come dire sempre aperta a capire il perché delle cose però siamo consapevoli che non tutte le persone sono così esatto anzi molti di voi riscontrano un muro davanti quando soprattutto in famiglia perché poi i figli il marito o la moglie non vuole quindi lì si trova lì c'è veramente una difficoltà abbastanza pesante direi proprio di sì più che altro perché comunque ci affacciamo delle nuove realtà che magari prima non c'erano magari prima l'alimentazione era una cosa adesso l'alimentazione è più come dice come ha detto Diana prima 360 gradi non c'è magari soltanto il cibo c'è anche la psicologia dietro il cibo immagino e certo beh il cibo è in stretta in stretto collegamento relazione con la psicologia con la nostra mente assolutamente pensiamo alle dipendenze che abbiamo dal cibo molti di noi dallo zucchero eccetera questo è un altro argomento a parte ma comunque magari affronteremo anche questo eh sì molto interessante sì le dipendenze ad ogni modo diciamo che noi siamo stati abbastanza fortunati ad avere il supporto anche da parte della famiglia e anche da parte di amici e siamo stati fortunati non da tutti però non da tutti non da tutti sì beh abbiamo incontrato persone che comunque erano contrarie anche solo alla dieta dei gruppi sanguigni ma ne incontriamo tutti i giorni anche solo virtualmente sì sì però è importante non non andarci addosso proprio di prepotenza sì ma infatti con con la presunzione di aver ragione per forza ecco perché altrimenti cioè così in questo modo non si ottene nulla ma infatti ma poi come sapete anche voi inutile che ve lo dico la verità non ce l'ha nessuno quindi esatto cioè uno può avere un'idea uno e può avere un'altra va bene confrontarsi ma non bisogna proprio scontrarsi insultarsi esatto è bello unire le proprie idee esatto e insomma cercare di capire che cosa è meglio per una persona piuttosto che un'altra eccetera però è bello confrontarsi non assolutamente non attaccarsi questo è fondamentale è la base di tutto secondo me soprattutto in famiglia quando si si ha magari un marito un po' più testardo che non vuole rinunciare al pane per esempio visto che in questa storia di alimentazione il glutine ecco viene bandito diciamo diciamo così e non bisogna cominciare ad attaccare oltre a questo appunto noi siamo stati abbiamo avuto la fortuna di sopportarci a vicenda quindi su questo siamo stati fortunati che bisogna dire che bisogna dire ci siamo trovati Diana per fortuna ci siamo trovati e quindi è stato anche più facile infatti lo ammettiamo questo ha un impatto davvero positivo in questo senso qua perché se uno si supporta è tutto molto più scorrevole è tutto più facile è anche più facile cucinare l'uno per l'altro perché se tu mi cucini una cosa nuova io non è che ti dico no che schifo non voglio neanche provare dico ah wow che bello proviamo poi magari non mi piace però almeno ho già avuto la volontà e l'apertura mentale di dire sì e questo è importante esatto e infatti il punto al quale voglio arrivare è che non bisogna non bisogna obbligare le persone a seguire una nostra idea un nostro stile di vita ecco l'obbligo è proprio una cosa così come l'attaccare la persona sì è proprio brutto obbligare una persona esatto per dire se magari volete cucinare non so un pranzo diverso secondo insomma la vostra alimentazione e magari il vostro il vostro figlio i mariti soprattutto anche i figli adolescenti per esempio che insomma sono vabbè io già ero una ribelle anche io no dai ribelle no cavolo non andavi in giro a picchiare tutti con il mattarello vero dire no quello solo te questo sì questo ero io no in realtà no dicevo ero una ribelle nel senso che vabbè se non mi piaceva un cibo sì facevo facevo dei capricci anche io ed è normale però sì poi ovviamente da giovani siamo un po' più capricciosi insomma sì sì ed è assolutamente normale su quello non bisogna prendersi troppo ecco troppo male certo però magari se appunto il vostro marito o moglie non vuole mangiare la pasta di lenticchie rosse non potete ovviamente non si può obbligare anche se è un buon modo per mascherare la cosa nel senso uno che magari cerca di levare il glutine dalla propria alimentazione utilizzare un altro tipo di pasta con un altro tipo di farina ma magari qualcosa che non sta troppo di strano perché insomma la pasta di legumi per una persona che non è abituata per esempio pensiamo alla pasta di piselli ha un retrogusto un po' forte e quindi uno se ne accorge subito più che forte è particolare più particolare certo poi chi è abituato beh ci passa sopra sì poi ovviamente non per forza bisogna mangiare la pasta insomma senza glutine vuol dire mangiare anche solo della carne con dei broccoli ma anche del riso ma anche del riso o della pasta di riso al 100% ormai si trova ovunque appunto non obbligare dovete cercare di andare gradualmente come si dice step by step passo per passo a distruggere i loro muri ok che si mettono da soli davanti perché è così e fanno tutto da soli piano piano quindi ed è il secondo punto al quale voglio arrivare siate voi l'esempio giusto sei d'accordo assolutamente sì perché con l'esempio sono sempre stato il tuo esempio infatti no dai scherzo in tante cose sì in realtà sì in tantissime cose sì siate voi il loro esempio e quindi io penso sempre penso che anche tu sia d'accordo le azioni contano mille volte più delle parole a voglia perché con le azioni dimostri ciò che stai facendo dimostri innanzitutto che mangiando in modo sano tu stai bene quindi si vede proprio su sulla tua pelle sul tuo corpo su tutto ma anche sul tuo umore su come vivi la giornata tra l'altro cioè il cibo influisce molto sull'umore molte persone magari vabbè poi qui ci sono tante ramificazioni ovviamente possono essere anche dei problemi che possono essere psicologici per carità non vogliamo dire però abbiamo ma non solo noi anche tutte le persone che negli anni con cui negli anni abbiamo parlato abbiamo visto che comunque come dire l'umore è molto influenzato legato all'alimentazione ah sì esatto all'alimentazione quindi non è da escludere che l'alimentazione possa influire molto molto sull'umore assolutamente sì beh in un corpo intossicato alla fine un corpo intossicato è tutto intossicato anche la mente anche tutto sì che poi un'altra cosa che si può dire è che ovviamente quando una persona si alimenta in modo corretto non lo fa soltanto per una magari patologia e basta lo fa per tutto il corpo cioè qui bisogna curare proprio tutto il corpo e la mente esatto e non solo il problema singolo quindi una persona che si alimenta in un certo modo come dire trova giovamento in tutto il proprio corpo non solo in quel problema assolutamente sì sono pienamente d'accordo se vi ritrovate anche voi in questa filosofia in questa idea in questa filosofia in questa idea scrivetecelo scrivetecelo qui sotto nei commenti esatto scrivetecelo quindi fare da esempio è importantissimo anche perché poi cioè le persone ma tutti noi tutti noi seguiamo degli esempi immaginate se il vostro figlio vede che state benissimo mangiando in questo modo da lui definito strano o dal marito però poi state bene siete super in forma avete sempre voglia di fare cose cucinate sempre cose fresche buone secondo me un po' quella scintilla scatta in loro nel dire ma quasi quasi ci provo anch'io al massimo boh al massimo torno a prima e boh al massimo si torna indietro esatto al massimo si torna indietro ma la maggior parte delle volte le persone che provano e cambiano non tornano indietro perché poi vedono dei risultati e poi qualcuno che cede alle tentazioni c'è e quindi si torna a sgarrare eccetera però se ne accorge subito dei cambiamenti nel corpo e del fatto che intossicandosi con cibi sbagliati ecco si hanno delle reazioni non da poco ecco esatto esattamente e quindi con questo arrivo al terzo punto che si collega ad essere insomma da fare da esempio cucinando per loro quindi cucinate per loro questa è una bellissima idea cucinate per sì beh soprattutto in famiglia è importantissimo perché se se fate fare tutto a loro insomma ovviamente faranno di testa loro però al posto di attaccarli o magari di litigarci guarda che io ho ragione perché io miglioro facendo così tutte le varie teorie che vi vengono in mente piuttosto gli cucinate qualcosa di veramente buono sì poi vabbè adesso ti interrompo un secondo mi ricordo mi ricordo quando una volta come dire si diceva a questa persona di provare a seguire una dieta e quando poi le chiesi a questa persona ma stai utilizzando la farina di quino anziché la farina cioè stai utilizzando la farina di quino sì sì e che cosa ho mangiato e ho mangiato le crepe come le fate e gli ho messo la farina normale e la farina di quino ha detto no così no non va bene così o le metti solo la farina di quino oppure niente eh sì così è come dire esatto pararsi un po' esatto non è che ha messo la farina di quino e basta ha messo la farina normale quindi col glutine e poi anche la farina di quino per quello forse è meglio che si cucina che cucinano cucina la persona per lei esatto non cucina lei magari fa all'inizio può fare anche dei piccoli prendeteli per la gola esatto perché alla fine il segreto è quello gli cucinate una bella cena o un bel pranzo o anche un pranzo da portare a lavoro immaginate o magari a scuola immaginate poi quando si trovano questo pranzo buono dicono ma che cosa è sta roba alla fine sono costretti comunque a mangiarla perché ebbè certo o muoiono di fame oppure no tipo un mini ricatto no scherzo no abbiamo detto che non bisogna obbligare no 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 quindi no però vabbè stiamo scherzando adesso ma comunque ecco cucinare per loro fa veramente cioè è il segreto assolutamente e soprattutto anche per esempio quando si viene invitati non so a pranzo da qualcuno a cena è sempre a parte che è carino portare qualcosa di già pronto di preparato da voi e alla persona potrebbe all'altra persona potrebbe anche far piacere noi facciamo sempre così potrebbe anche piacere potrebbe anche piacere agli amici che sono un po' scettici solitamente tutti coloro che ci che ci dicono ma guardate io ho portato questa torta salata ho portato non so una torta di quinoa adesso non mi vengono i nomi però comunque ricette secondo questo stile alimentare e alla fine hanno fatto tutto il bis con ciò che ho portato io è sempre così è sempre così ma come hai fatta questa ricetta dammi la ricetta ma anche perché sono sapori nuovi comunque come dire che magari prima abituate alle cose sempre standard quando tu porti un qualcosa di diverso ah che cos'è questo sai magari al palato può piacere può non piacere però se ti piace magari fai anche il bis esatto proprio così e poi queste persone che assaggiano ciò che portate voi se ne accorgono che c'è qualcosa ma non nel senso qualcosa di strano ma che è più leggera non so magari una torta fatta senza burro senza latte senza glutine come le nostre una persona se ne accorge subito ah ma non mi non mi fa gonfiare la pancia ma sto meglio mi sento più leggera mangiando nonostante mangi un dolce fatto comunque in casa non ti senti pesante riesci a digerirlo meglio e quindi se ne accorgono e la scintilla scatta certo quindi piuttosto che attaccarli guarda che questa teoria è giusta non quella tua quello è sempre l'approccio sbagliato che noi cerchiamo beh ormai evitiamo come come la peste di fare così con chi ci attacca e ci dice guardate che questa cosa non è scientificamente provata voi state sbagliando informatevi ecco cerchiamo di rispondere prima con con dei risultati che abbiamo avuto noi degli esempi e tutti voi che le testimonianze sono le le cose più importanti che ci siano esatto quindi ragazzi voi mettete in pratica questi consigli questi piccoli consigli che poi si è messi in pratica costantemente danno veramente risultati li vedrete perché bisogna avere pazienza non bisogna buttarsi subito una persona ha bisogno di tempo certo soprattutto quando si vivono le proprie abitudini tutti i giorni cioè non è che puoi arrivare lì e dire oh da oggi si cambia e lì poi si crea il conflitto però siate pazienti però ripetete questi piccoli consigli il più possibile magari pochi passi alla volta se non riuscite tutti i giorni però il più possibile martellate proprio ogni ecco il più possibile quindi ricapitolando secondo noi i tre punti fondamentali sono non obbligare le persone i familiari soprattutto ma anche gli amici perché poi si allontanano rischiate anche questo ed è brutto e siate voi il loro esempio assolutamente questo è fondamentale e cucinate per loro bravissimo se riuscite cucinate per loro e vedrete poi vedrete i risultati e vedrete che funzionano perché noi li abbiamo provati assolutamente abbiamo provato tutte e tre queste cose funzionano esatto allora ragazzi per oggi è tutto grazie per averci ascoltato grazie a tutti e soprattutto vi aspettiamo nella prossima puntata nella quale parleremo di come mangiare sano in modo costante senza perdere la motivazione che anche questo è importantissimo e inoltre se volete iscrivervi al percorso Nutrimente Corpo in sette giorni potete farlo cliccando sul link qui sotto nei commenti se non avete diciamo qualcuno che vi sostenga come abbiamo parlato anche oggi sicuramente questo supporto che manca che vi manca lo troverete assolutamente in questo percorso e direi che ci vediamo nella prossima puntata ciao ragazzi ciao a tutti grazie